Let's get it guys, se vuoi acquistare skin e v-bugs mentre supportare il power of the nazionale ricordatevi che potete scrivere fanatic trattino in mezzo power scritto ovviamente col 3 al posto della e in supporta un creatore, lo trovate in basso a destra nell'item shop di Fortnite ogni tuo futuro acquisto su Fortnite supporterà anche me e vi farò degli splendidi ragazzi Let's get it boys Sembrano dei kiss, ci è stato brutto, ma dopo ce ne facciamo la bocca ma il fatto che non mi posso toccare gli occhi mi dà un fastidio Grazie mille avrò un PS per i 3 mesi, segatto Stefano per i 7 mesi, sono splendore stasera, grazie mille bro Grazie mille pure a Esmac per i 2 mesi e Luca TR9 per i 4 mesi, grazie mille brothers Bentornati ragazzi nella TPG Mi sa che i server non vanno molto bene Oh, puzzette, poggers Eh ZR è una cosa che fanno i pro player È una cosa abbastanza normale in un battle royale che accada Specialmente perché ci sono tanti player nella mappa E quindi molte persone non vogliono morire allo start Ed è per questo che i pro player si organizzano Su come distribuersi la mappa tra di loro Pure perché non ha senso morire allo start, capito? Cioè se mori allo start comprometti un intero game Una mamma, una mamma power sullo sfondo Mamma Oh Puoi pure salutare Alla madonna che hanno fatto qua Oh merda mi ha preso il rift in faccia Peccato che hai preso il rift bro ti volevo fai dare Fuck what? Avevo il cecchino Non lo vedevo perché c'era il coso dietro Merda Che cazzo voleva questo? No, un altro tizio dietro C'è un altro tizio 100-100 Fa schifo il deltaplano a forma di treno Vabbè per averlo però Non è che è una cosa dei c'è Solo perché non ti piace Allora vuol dire che non la devi avere Per averlo Una delle skin più rare E una delle più brutte LR Verden si può vedere C'è ragione pure te fra Porca puttana Oh merda Un altro Un altro No porco Due A me c'è un occhio che mi lacrima tantissimo Bene now Ehi tu cos'hai fatto Sparito 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 così Beh forse è sotto Non riesco a capirlo No ragazzi Non è sotto Vedete È andato da qualche altra parte E questo è uno Però Manca qualcun altro Sono me Ma come fanno ad esserci altre sette persone in vita Ma che cazzo Come fanno ad esserci così tante persone in vita Oh ragazzi Sono tanti in vita Uno l'ho visto Una lì E va bene Sono perplesso Madre di dio Esci fuori da questo corpo Frate Ma tu cazzo è arrivato No Sì, sì. Grazie a tutti Ok Cazzo sono sti endgame così tesi Oh Cazzo sono questi endgame così tesi Vabbè Cazzo è lo skirmish raga Non ho mai visto una cosa del genere Cazzo è lo skirmish raga Cazzo è lo skirmish raga